Buongiorno! Oggi farò una donazione. Ecco qua! Ossiede buone fande truca storte flesse hier dutt, vi è indonati fuor in diren parche hier in de Wurt. Allora, facciamo una donazione per il parco degli animali. Ecco qua! Introduciamo le bottiglie per ricevere il vuoto a rendere. 15 centesimi. Here we go! 25. Bottiglie grandi di plastica, 25 centesimi. Eccolo qua, 15 centesimi. Di nuovo, 15 centesimi. Ecco l'ultima bottiglia. Vediamo. Il totale è di 1,40 euro. Prendo il biglietto e lo dono al parco degli animali. Introduco lo scontrino nella fessura. Ecco fatto! Bedanked! Grazie mille! Arrivederci e al prossimo video! Ciao ciao!